100 kg di carne e pesce in cattivo stato di conservazione, senza tracciabilità del prodotto, è scaduti da diverso tempo. È la scoperta fatta dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità nel corso di un'ispezione in un negozio cinese nel centro di Casa Massima. Un'operazione scattata nell'ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Bari per verificare il rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica. All'interno dell'esercizio commerciale, di 300 metri quadri, gestito da una donna orientale, i militari hanno scoperto oltre un quintale di prodotti ittici e di carne non idonei al consumo, oltre che privi dei requisiti di sicurezza imposti dalla normativa nazionale ed europea per la vendita al pubblico. Diverse anche le irregolarità accertate sulla merce esposta, come prodotti ittici freschi e surgelati o la carne confezionata in contenitori improvvisati. La merce, del valore complessivo di circa 50.000 euro, è stata sottoposta a sequestro mentre la titolare dell'attività è stata denunciata all'autorità giudiziaria. La donna dovrà anche pagare una multa di 3.000 euro.